LUMOS Questa miniera è enorme Loggok, dove sei? Qualcosa non va Questo posto pullula di seguaci di Ranrok Devo mantenere la calma Una delle cose Petri di questo Thanos Questo carrello dovrebbe portarmi negli abissi della miniera Esattamente come alla Gringot Ma stavolta sono io che guido Qualcosa non va Chissà quanto mi porterà in... Ranrok sarà contento dei nostri progressi Chi c'era su quel carrello? Fai Quella deve essere la fine della corsa Incendio! RIVELIO 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 C'è nessuno? Petri di questo Thanos RIVELIO Venire qui è stata... RIVELIO 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 Svegliate del genere! Tadahue! Proteggo! A partitor! Ai jean! Bombarda! Supervigio! Scentrano le verdure in battaglia! Proteggo! Supervigio! Rivelgo! Arresto un momento! Descendo! Supervigio! Bombarda! Dove hai imparato? Per le magie oscure! Ripeto! Proteggo! Stupecito! Bopparda! Stupecito! Dormi bene mio enorme amico! Proteggo! Dormi bene mio enorme amico! Revenio! D'uncino lento di avete i vecchi Alex. Qua ci manca incuriosisce? Cosa ci impedisce? Grazie a tutti. 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 Devo distruggere il livello e farò i seguati di Ravok. Grazie a tutti. 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 Per tutto questo tempo. Tu lo sapevi. Sapevi dove si trovava? No. Va tutto bene? Non ti capirò mai. Lord Gok, sei così ingenuo. Quella strega. Non ho fatto altro che... sprecare tempo. Mentre mio fratello. Ehm... Povero... morto... morto per mano di... Suo fratello. Ehm... Ehm...